Fate le vostre esperienze, imparate, fate quella che una volta veniva detta la gavetta, non cercate di voler essere subito, come dire, indipendenti, dovete imparare come affrontare il mondo del lavoro, anche dal punto di vista di soft skills, come gestire, come interagire con i colleghi, con i capi, solo così poi riuscirete ad avere ben chiaro come un domani potrete creare la vostra azienda.